Buonasera a tutti ragazzi, questo è il nostro primo video e adesso ci presenteremo brevemente diremmo che cosa andremo a fare anche su questo canale, cosa porteremo e quando porteremo e tutte queste cose qua. Io sono Francesco, ho 18 anni e abbiamo deciso di fare questa cosa da relativamente poco e vogliamo essere creativi e portare contenuti che possono anche piacervi a voi, poi non ci interessa in realtà le visual, quelle cose lì, ma più che altro portare dei video delle nostre esperienze facciamo. Io invece sono Denise, ho 17 anni e sono fidanzata con questa cosa. E niente, i nostri video usciranno ogni venerdì alle 2 e niente. Sul canale quindi porteremo video di vario genere. Inizialmente avevamo in mente solamente un format, bisogna abituarsi a queste parole. Un format che sarebbe quello di andare a mangiare. Non è una spoiler. Non è una spoiler. Dico solamente che nei video che volevamo fare c'erano soprattutto video di tema culinario, quindi andare ai ristoranti, provare cose nuove. Non vi diremo dove andremo, ma lo scoprirete nei prossimi video che abbiamo già preparato. All'inizio probabilmente editeremo un video a settimana, poi magari andando avanti potremmo editarne anche due a settimana, ma per ora mettiamo il venerdì alle 2 alle 14. Così che tutti possano vederlo magari anche il fine settimana con calma. Secondo me è un orario migliore per la scuola. Più avanti quindi porteremo non solo il format dei cibi nuovi, di provare cibi nuovi, insomma. Ma anche cosa portiamo? Ma si spoilerà! Si spoilerà, perché non è spoilerare questo! Quindi sì, porteremo anche video di challenge, sfide di noi, giochi vari. Qui magari vediamo anche se potrebbe partecipare anche qualcun altro. Posso fare allora! Esatto! Inoltre avevamo in mente di provare i cibi del supermercato che magari non abbiamo trovato, tipo... Tu non hai provato! Neanche tu! Tipo le cioccolate, che tu non hai provato, le patatine. Le patatine, che io non avevo assaggiate tutte. Oppure anche... Oppure anche le barrette. Tutte quelle cose di... Per ogni ambito c'è qualcosa. Prendiamo tutto. Prendiamo tutto. E poi... Sì, diamo i voti, insomma, a quello che prendiamo. Questi video, come dicevamo, sono alla fin fine dei video di ricordo che noi mettiamo su YouTube per condividerli con voi. Se diventano virali, ne diventiamo anche famosi, ovviamente, a noi ci va bene. Però, cioè, non è questo il nostro scopo. Il nostro scopo è divertirci noi, perché ci piace fare dei video di ricordo anche di tutte le esperienze che facciamo. E ci piace proprio anche a noi andare a mangiare cose nuove, provare cose nuove, fare esperienze varie. E quindi, YouTube è solo un mezzo per condividerle a voi. Questo video era un po' per introdurvi noi come siamo. Sì. E il nostro canale che abbiamo aperto. Speriamo che vi sia piaciuto. Ci vediamo in questo nuovo video. Speriamoci a tutti!